Perfetto, allora dicevo questo appuntamento così importante qui è un po' per provare a rilanciare l'immagine di Roma che all'estero è stata purtroppo sporcata da queste brutte vicende che hanno infangato la nostra città e per dirvi che Roma non è solo degrado, non è solo sporcizia e per fortuna non è solo mafia capitale anzi i partiti ci hanno insegnato che mafia capitale è una distorsione del sistema perché la politica ormai non la fanno più i partiti, i partiti hanno consentito che i mafiosi, la parte marcia di questa società si sedesse al tavolo e decidesse per noi cittadini, non è così, la politica a Roma la devono fare i cittadini.